Me ne vado qui, me ne vado qui, non ce la faccio più, me ne vado qui. Aspetta, mi fai parlare? Non parlare, me ne vado qui. Tu non parlare, non hai parlato, adesso fammi parlare. Ti amo da morire. Amauri, non piangere, non piangere, ascoltami, ascoltami un attimo, ascoltami. Nella tua vita hai affrontato delle situazioni difficilissime. Eh, questa è troppo forte. Ascoltami, guardami, avevi 12 anni quando hai lasciato i tuoi genitori per andare a inseguire un sogno. Eh? Hai vissuto da solo da quando avevi 12 anni. Hai cambiato paese e non sapevi quando avresti rivisto la tua mamma, è vero? Eh, lo so. Guardami un attimo, tu non ti stai raccontando. Amore mio, sei la persona più bella e più vera che io abbia mai conosciuto. Dai agli altri la possibilità di conoscerti. Amore, non mi stai ascoltando. I tuoi figli sono super orgogliosi di te. Tutti hai un esercito fuori che apprezza la tua eleganza e il tuo modo di fare. Ascoltami, non devi per forza gridare per sentirti adatto a vivere in questa casa. Va bene come sei. Grazie. Grazie.